... Alle soglie del terzo millennio, tre amici decidono di cambiare la loro esistenza. Toni, ma tu che fai stasera? Ci vogliamo andare a fare una pizza. Nooooo! In anteprima mondiale, il film dell'anno, con un cast senza precedenti. Qual è la storia? Il caricatore. Una storia capace di suscitare grandi emozioni. L'amore, la guerra, l'avventura, l'amicizia, la passione, l'erotismo, il divertimento, il dramma, lo sport, il turismo, il tempo libero. Ma sogni, ce ne sono. Nooooo! Il caricatore. Un film accaduto a una storia realmente ispirata. dove quello che conta non sono i sogni, ma i soldi. No, il contrario. Come il contrario? Io non ci ho capito niente. Ci cominciamo da capo. Nooooo! 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 Nooooo!